Benvenuti. Salve! Vi lascio qua il menù, con tutte le sortate. Il cameriere era il chewing gum e secondo me è una cosa insopportabile, proprio mi dà fastidio. Sono uguali i menù? Io non ho i liquori. Le andate a me e i liquori. Io ho solo vini. Avendo un po' questo spirito critico, per dire un supremismo, ho notato questa cosa. Il mio menù è diverso solo in una pagina, sembrerebbe dagli altri. Eh no, si vede che non è stato aggiornato allora. È quello là da fare fielo, questo qui invece non è stato aggiornato. Beatrice si è accorta di avere un menù diverso da noi, ma ha proprio voluto andare a cercare il perone all'uovo, ecco. Sì! Ci stiamo? Sì! Credo che sia una giocatrice altamente permalosa. Volevo solo informarvi che lo special verrà servito come seconda portata. Grazie! Allora, io prenderei la torta di cipolle crema di zucca con pancetta croccante. A seguire la parmigiana di zucchine e polpettine di ricotta. Io prendo l'antipasto della tradizione e la coppa di maiale ripiena e verdurina al vapore. Ok. I ravioli di brasato della tradizione e a seguire la foraona all'uva e insalatina. E quindi io prenderò i malfatti, l'erbetta confonduta e il brasato. Grazie! Niente, questi menuti ci rilasciano sul tavolo e va bene così. Questo sarebbe, uno ha chiesto un salone, uno ha chiesto un raviolo. Cosmin scrive veramente malissimo. Certo Cosmin che farmi le cose più facili è mamma mia! Siamo un po' emozionati, ecco no? Non ci capita tutti i giorni. Cina, il nostro primo brindisi, eh? Eh, finalmente! Oh, meno male! Senza rancore, eh? Assolutamente no! Il salone va alla signora, che lo porto io. Sì? La torta di cipolle va sempre alla signora, che lo porto io. Ok. Eccoci! La torta di cipolle. Grazie. Il malfatti. Ravioli di brasato. Il salone. Eh, grazie. Scusa, dimmi, non ti sei scordato qualcosa? Il menù? Bravo. Mi è venuto istintivo sollevare il menù e farglielo capire, perché mi dispiaceva proprio per lui. Allora, c'erano i menù sul tavolo quando ho portato i piatti? Sì. Hai detto, scusa, non è che ti sei scordato qualcosa? Dove togliere il menù? Ecco, è tipico, tipico di Cosmin questo. Vano tolti? Sì, sì, vanno tolti, vanno tolti.